Questa è una serata di canzoni che provano a raccontare, provano a parlare di calcio, di football, di quello che ci piace. Solo che dovete partire da una considerazione. Loro due sono argentini di Cordoba. Io sono parte enopeo, cioè parte di Afregola e parte di Caserta. La canzone che vi facciamo ascoltare adesso è una canzone d'amore e si intitola Maradona e Remei di Palè. Maradona e Remei di Palè, tu facevi l'amore con me. Era ancora una carta sporca, la canzone è stagiale. Ma l'amore è un petizio, si vuole essere felice. Non pensate che è la carica, c'è che non ti fanno amici. Maradona e Remei di Palè, mi sentivo con un malore. Tu pari per andare in Cina, si vieni a casa, fiamme lì. Mi scendeva il quartiere, non mi parevo bene. E' solo un guaglione, mi sta capendo padrone. Maradona e Remei di Palè, mi sentivo con un malore. Tu dicevi che non fa male, così cosa non c'è fino. Maradona e Remei di Palè, mi sentivo con un malore. Ma fa scelta malamente, ma la buona era più lenta. E l'amore gagnai con tu, tu per me non si è nata per solo. La regista non fa niente, vuoi più bene a quella gente. I foglietti a metro grande, foglietti come l'amore. Attirava l'una in faccia, a volte in faccia, a volte in faccia. E non era mai contente, non mi riceve più niente. Tu si vede veramente, ramadona, sempre a gente. Mi sono stato un credito, steva sempre fatta a fine. Ma il regista non fa niente, vuoi più bene a quella gente. Taglia ancora sto finale, si sta chiedendo, fa male. Corre sempre a metro grande, corre sempre a google grande. Attirava l'una in faccia, a volte in faccia, a volte in faccia. La regista non fa niente, vuoi più bene a quella gente. La regista non fa niente, vuoi più bene a quella gente. La regista non fa niente, vuoi più bene a quella gente. La regista non fa niente, vuoi più bene a quella gente. La regista non fa niente, vuoi più bene a quella gente. La regista non fa niente, vuoi più bene a quella gente. La regista non fa niente, vuoi più bene a quella gente. La regista non fa niente, vuoi più bene a quella gente. La regista non fa niente, vuoi più bene a quella gente. La regista non fa niente, vuoi più bene a quella gente. La regista non fa niente, vuoi più bene a quella gente. La regista non fa niente, vuoi più bene a quella gente. La regista non fa niente, vuoi più bene a quella gente. Grazie a tutti Grazie a tutti